Ha incassato anche la solidarietà della politica la vicenda dei 15 lavoratori che si occupano nel servizio antincendio della sicurezza dei laboratori del Gran Sasso, che ieri hanno dato vita ad un sit-in dinanzi ai laboratori esterni ad Assergi. La deputata Stefania Pezzopanni ha annunciato di voler portare la faccenda dinanzi al prefetto e al Ministero del Lavoro. È stata la Filcam CGL a porre attenzione sulla questione che riguarda 15 lavoratori considerati invisibili, il cui posto di lavoro ora è a serio rischio. Luigi Antonetti e Andrea Frasca della Filcam CGL hanno portato allo scoperto il problema. È scaduto infatti l'appalto per il servizio di controllo delle situazioni emergenziali dell'antincendio e del servizio di controllo continuativo degli impianti tecnologici dei laboratori nazionali. Le proposte della nuova società però per i sindacati sono inaccettabili. I lavoratori, vale la pena ricordarlo, operano il regime di appalto da ben 23 anni. I sindacati hanno fatto ovviamente delle richieste per tutelare la loro posizione. La posizione di lavoratori, esperti e professionali che hanno acquisito un'esperienza ormai ventennale. Per la CGL però le committenze hanno l'obbligo di vigilare sulla situazione dei lavoratori. Sono dei contratti che secondo noi non rispettano il codice degli appalti, non rispettano il capitolato d'appalto per cui non sono applicabili. Il problema qual è? Il problema è che questi contratti vanno in qualche modo a ridurre la parte delle retribuzioni e dei diritti. Pertanto secondo noi non sono accettabili. Ovviamente noi chiediamo alla parte della committente che si assuma la responsabilità del controllo del rispetto della clausola sociale, del capitolato d'appalto e della legge. Non possiamo accettare che le committenti pubbliche facciano orecchie da mercante a questi problemi. Tanto è vero che ieri abbiamo chiesto un incontro col direttore, non ci è stato concesso, ma noi chiediamo che ognuno faccia la propria parte.